Molto bella, suggestiva, ben organizzata, è stata veramente un'esperienza da consigliare e penso da replicare. Faccio i complimenti a tutti, in particolare mi concederete ad Andrea Fontanella che è uno dei motivi per cui mi sveglio alle 6 del mattino. Andrea merita così come meritano tutti i dirigenti che ruotano intorno a questa manifestazione. Consiglio a chi non è venuto di non perdersela l'anno prossimo. L'area è andata benissimo, è stata chiusa sotto all'ora e 15 e quindi è un tempo importante perché è comunque molto tecnica. C'è la salita che porta dal bikini al bichequenze che è un po' spezza gambe, se non la gestisci bene ti può dare dei problemi. Dal punto di vista organizzativo siamo contenti. Si conferma questo sodalizio che va avanti ormai da tanti anni, devo ringraziare il presidente Fontanella che ci coinvolge ogni anno in questa attività. Ritengo che sia una delle corse più belle del panorama credo italiano perché riesce a coniugare lo sport con le bellezze paesagistiche dei nostri territori. È una gara meravigliosa, la porteremo avanti ogni anno con grande sostegno, con il nostro patrocinio perché ci crediamo veramente. Sono particolarmente contenta di aver fornito il patrocinio morale a questo straordinario evento perché è sempre emozionante venire qui a Castellamare, venire qui al Baglio Corte dove ci sono i ricordi miei fatti a patrocinare questa iniziativa. Sono sport in vita e salute di benessere.